Ciao, sono Nicola Cobra. E io sono Camilla Whitehill. E questo è il Bestie P.O.V. 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 Mostrerò a Nicola i momenti della mia vita che si è persa, perché è più grande, e parlerò di quelli. Ti ricordi questo? Sì, me lo ricordo bene. Cos'è questo? È Derry Girls. Oh mio Dio, sembra quasi una parrucca. Ma non lo è, sono i miei capelli. Camminavi in giro con la frangetta. Sì, non la volevo, non mi piace. No. Oddio, somiglio una ragazza che ha perso una capra in montagna. Davvero? Anche perché non si possono neanche vedere le sfumature degli occhi. E tu hai dei grandi occhi blu che sono stupendi. Non ho mai amato avere la frangetta. Quando me l'hanno detto, ho detto, oddio, non mi piace. Ma era il tuo primo grande ruolo, non potevi dire no. È giusto? Era una delle mie seconde serie, ma erano fissati con la frangetta. Ed ero anche molto impegnata. Perché stai tenendo in mano un vaso? Non lo faccio, è una graffa. Ah, è una teiera. È una teiera. Ah, sì. Sì. E ricordo che era disgustoso mangiare su quel... C'era una frittura... Una frittura fredda. Oh mio Dio. E poi c'era un toast, era solo disgustoso. E questo è il mio ricordo. Questo è tutto il set. Sì, le serie tv non le filmi tutte su un set. Cosa? Sì. Non parli abbastanza di questo. È questo il gossip. Non lo so, sì. Una cosa che ricordo è tipo, Nicola è così nerd e lavora molto duramente, il che è strano. E quando viene castata lei ha questo piccolo libro dove scrive Claire sulla pagina. È triste che non puoi avere una via di fuga se fai questo lavoro. Non lo so. Ma ho sempre pensato che lei potesse farcela. Anche perché sennò non saperebbe se ci fosse successo a noi. Sì, e mi ricordo che lei palpitava per avere le parti per mesi. Sì, sei mesi di audizione. Sì, stressante. Veramente se guardi Derrick Girls 1, episodio 6, c'è un tributo a Camilla, credo. Sì. Quindi c'è quando loro scrivono l'articolo Come affrontare il mondo. Camilla ha potuto esprimere se stessa, ha una faccia senza espressione. Fa tutte queste cose insieme e sono davvero impressionanti. Ma mi ci diverto, voglio dire. Sì, ma non te lo dico abbastanza. Sì, sì. Ed ero tipo, ora sono come te. È stato bello vedere me stessa. Sì, l'hai amato? L'ho fatto, l'ho fatto, sì. L'ho amato. Bridger, tu? Oh mio Dio. Oh mio Dio, Claudia. Che poi tu hai scritto qualcosa dove hai recitato Claudia. Sì, l'ho fatto. È la migliore. Guardati, tu in gioco. Quindi hai conosciuto Claudia prima di me? Sì, l'ho fatto. Sì. È fantastica, molto divertente. Molto divertente, davvero. Bridgerton, tu sei venuta sul set? L'ho fatto, ho amato venire sul set. È stato davvero cool. C'erano tante persone che lavoravano là e molte comparse. Sì, ce ne sono almeno 200. Abbiamo tante comparse e sin dalla prima stagione sono fantastiche. È sofisticato, Bridgerton. Sì, è molto sofisticato. Ho amato andare in ogni stanza. Sì. Ricordo che quando sono stata castata io ero tipo, è uno show di Shonda Rhimes, vorrà nel meglio. Ah, io sono una grande fan di Shonda Rhimes. Non pensavo proprio di attenere il ruolo. Ero... È stato pazzesco. È stato folle, davvero folle. E quando ho realizzato ho detto, oh mio Dio, un grande show. Sì, e poi neanche sapevi quanto grande potesse essere, anche se aveva un grande budget. Non sai chi l'avrebbe guardato prima che uscisse fuori. E si poteva rischiare... È tutto della televisione. Tu puoi fare tante cose, ma le persone possono odiarle. Sì, e poi quando è uscita eravamo in lockdown. Sì. E noi eravamo famose. Sì, oddio. Sì, e so che può sembrare strano, ma farci riconoscere la TV in Bridgerton è strano, ma ha realizzato 82 milioni di visualizzazioni. Anche di più, 80 milioni. E più e più. Sì, 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 molto di più. Se ricordo bene è così. Sì, era dicembre 2020 quando è uscita la prima stagione. Eravamo tutti a casa, tutti l'hanno guardata. Sì. Era lo show perfetto per il lockdown, dove potevi evadere e suonare. Ricordo che mi messaggiavi che Kelly Rowling la stava guardando. Sì, e le persone famose cominciarono a postare ed io ero tipo... Sì, Kim Kardashian l'ha guardata. Quando ci ha seguito su Instagram eravamo tipo... Cosa? Si è stato strano, come un parente che ti scrive dopo tanto tempo. Sì, esatto, eravamo tipo... Che sta succedendo? Sì. Ma la gente ama questo show. È pazzesco. Ah! Questo è il più grande momento... Sì. Della mia vita. Sì. Della mia vita. Sì, della tua vita. Sì, voglio dire, è stato davvero... Ho amato fare tutto questo e vedere le reazioni, tutto. Sì, davvero emozionante è stato. Lo penso anch'io. Sì, è la verità. Sì, e tu entri molto in empatia con le persone. Lo fai tipo... Sono triste e diventi triste anche qui. Sì, e potrei piangere. Mi sono cadute le ciglia mentre piangevo. Esatto. È lo scossa. Sì, sì, poi me l'hanno rimessa sul set. Questo è stato il momento più emozionante della mia vita. È molto bello. Abbiamo realizzato ciò che volevamo fare. Noi siamo da molto tempo fan di Drag Race e non solo Johnny è arrivato dopo. Noi siamo andati a vedere la porta di Delano. Quinto piano West. Sì, sai, nella metà dei nostri venti l'abbiamo fatto. Sì, 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 è stato l'inizio. È difficile impressionarti, quindi le regine camminavano sulle strade entrambe con la musica, quindi eravamo solite scrivere tre barzellette sulle due regine e ricordo che lo facevamo nella vecchia scuola di teatro. Sì, sì, lo facevamo. Vero? Assolutamente sì, lo ricordo. E dopo Rapool è tornato da me e mi dice sei molto intelligente e divertente. E ero tipo... Hey Barbie! Hey Barbie! E qualcuno me l'ha detto a New York mentre camminavo. Sì, era tipo ciao Barbie. È stato molto divertente, è stato davvero emozionante. Oh mio... Voglio dire, eravamo insieme quando ho fatto il self-tapeer. Ah, sì. Eravamo alle Hawaii. Sì, ero stata licenziata per leggere le righe. Ah, sì, non amo leggere le righe e non mi piace chiedere aiuto. No, no, non mi piace... Non mi piace disturbare le persone. Sì? Sì, e quindi... Ma non lo era per me. Sì, ma se tu volevi andare a vedere le Hawaii, potevi andare, stare al sole, insomma. Sì, ricordo che appena finita l'audizione ho detto, oh mio Dio, l'amo! Sì, l'amo davvero molto e poi ho cominciato a girare Bridgerton stagione 3 e loro erano tipo, non pensiamo che tu possa farcela, sai con me, ma poi hanno trovato un piccolo ruolo e ero tipo, sì, 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 faccio tutto, faccio tutto e ci hanno fatto anche un sacco di edit, non so come hanno fatto. Sì, perché le persone ti amano. Sì, lo so. Io voglio vivere. Quando ero sul set amavo passare il tempo con... 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 Con Maria, Alessandra e Emma e... Margot. Margot e Dio abbiamo una scena insieme, sì, ed ero tipo... Tipo, oh mio Dio! Big Moon! Big Moon! Big Moon! Questa è la sigla, credo. Lo è. Bellissimo Big Moon! Ehm, il Love Actually Party, la principessa lì del Louis de West, ehm, questi costumi sono stati fatti, non sono stati comprati, ovvio. Avrei ucciso per questo. Sì, avrei ucciso anch'io, ma sembra... Sembrano diversi da come erano sul set, mi pare. Ah! Sì, me li ricordavo diversi. Non l'hai aiutato perché sei molto distratta dal tuo personaggio quando reggi, ti sai? Dovevo andare in bagno ed ero tipo, cosa? Sì, tre ore per tornare. Sì, e poi avevo tutta la vasillina in faccia, ero tutta unta. Non l'avevi usata e non ne hai avuto bisogno, tipo, più gli uomini. Sì, era davvero folle. Non per me. Ma si notava moltissimo. No, non la sentivo molto, solo qui, sì. Sì, era anche molto dolce. Sì, sullo schermo non si nota che c'è la vasillina, ovviamente. Però sembra bello. E poi ho provato a flertare con Tommy Henry. Che ricordi felici. Sì, sì. È molto divertente questo episodio. Grazie, grazie. Da bestia colleghe. Noi siamo due donne da fare insieme. Ci siamo conosciute alla scuola di teatro e facciamo spesso improvvisazioni insieme. Credo che c'era una frase scritta da qualche parte e stavamo cercando di capire come farla una buona improvvisazione e l'abbiamo trovata davvero divertente da fare. Non ti ricordi? Sì, ero sconvolta. Sì, ridevamo tanto. L'insegnante anche ridevamo. E poi abbiamo scritto un podcast insieme chiamato Attraverso il Trifoglio. È una cosa che avevamo sempre voluto fare. Sì, sono cose che accadono per destino. A volte è normale, credo, per questo lavoro, lavorare insieme e creare amicizia alla fine. Perché le persone con quei lavori diventano amici. Sì. Suona bene. Sì. La mia amica è qui. Sì, è davvero fantastico. Beh. Oh, grazie. Vorrei fare una brutta battuta su di me. Oh mio Dio! Oh mio Dio. Grazie per aver guardato P.O.D. Grazie per averci guardate. Mua!